Ciao ragazzi, Dario vi ha già fatto vedere cosa c'è nella scatola di un Simucube 2 Pro oggi invece vi faccio vedere io molto brevemente cosa c'è all'interno del software come utilizzarlo e a cosa corrispondono le varie schermate diciamo che se avete già guardato i nostri video per Simagic o altri marchi di prodotti che vendiamo avete già una vaga idea di cosa andremo a vedere oggi perché comunque parliamo di profili, impostazioni, questo genere di cose e in generale spiegliamo come funziona tutto partiamo proprio dalla prima schermata che è quella dello status dove possiamo andare a vedere il volante virtuale che corrisponde appunto a questo fisico e possiamo andarne a sistemare il centro ossia se per qualsiasi motivo notiamo che per esempio il nostro punto zero corrisponde a questo che non è chiaramente un volante dritto possiamo ricentrare manualmente il tutto cliccare su questo reset center e poi da qui si può andare a impostare il centro permanente del volante in questo caso non ci interessa perché è già giusto comunque questo è quello a cui serve questa schermata in particolare nelle ultime release sono uscite questi due bottoni qui in basso che riguardano delle feature sperimentali che Simugube sta testando in questo periodo quindi se voi non le avete perché magari avete la versione stabile non preoccupatevi non è un problema sono cose che arriveranno più avanti per tutti comunque si tratta appunto di cose sperimentali quindi per il momento noi consigliamo di evitare di scaricare la versione più recente proprio per evitare questo genere di differenza tra la versione che hanno tutti e questa qui un po' più particolare il tasto send feedback è semplicemente sempre relativo a quei filtri ma in questo caso non ci interessa passando alla prossima schermata wireless wheels qui adesso non possiamo farvela vedere nel dettaglio perché non abbiamo un volante che sia dotato di connessione diretta wireless Simugube altrimenti qui comparirebbe proprio il nome del volante con tutti i dettagli riguardo la connessione wireless e si potrebbe andare a fare appunto la connessione o eventualmente scollegarlo insomma tutto quello che riguarda la gestione dei volanti wireless certificati Simugube questa invece forse è la parte un po' più interessante la sezione profili la prima distinzione da fare è che esiste una versione online e una offline dei profili la questione comoda della parte online è il fatto che attraverso i profili creati e condivisi dalla community come questi qui che vedete a schermo per esempio è possibile andare a selezionarne alcuni per provarli e di conseguenza non c'è da impazzire dietro a settaggi, impostazioni, slider e quant'altro se uno non ha particolarmente voglia di addentrarsi in questo universo può semplicemente scaricare quelli della community e utilizzare quelli fate comunque attenzione perché non si tratta di profili particolarmente certificati o per meglio dire ci sono queste icone su alcuni con questa coppa consistent e quant'altro che sono delle valutazioni date proprio dalla community ossia altri utenti che li hanno provati e ti dicono ok questo profilo funziona bene si comporta bene su tutte le macchie ci sono vari gradi di chiamiamo le recensioni dei profili diciamo che la coppa oro è il livello maggiore poi ci sono anche quella di bronzo e quella argento quindi diciamo che profili di questo genere possono essere utili per possono essere validi da utilizzare si può fare tutta una serie di selezione qui in alto in base al tipo di gioco in base al tipo di volante che si è montato sulla base sono tutti filtri che servono a restringere il campo in modo tale che si abbiano soltanto a schermo dei profili che corrispondono al vostro setup perché chiaramente un profilo per un volante da 330 mm non sarà proprio il massimo su un volante da 280 mm per fare un esempio e questo per quanto riguarda la parte paddock nella parte offline diciamo che il discorso è semplicemente di profili creati in locale quindi dall'utente che sta utilizzando il software e qui ne abbiamo alcuni che abbiamo creato in questi giorni se ne possono creare di nuovi selezionarne uno e modificarlo, rinominarlo tutte le classiche cose che si possono fare con un profilo molto velocemente andiamo nella schermata di edit così vediamo anche come funziona questa e i valori sono quelli classici di qualsiasi base direct drive fondamentalmente si parte dal livello di forza in questo caso siamo a un 48% che si fa corrispondere a 12 Nm su 25 disponibili per un Simo Cube 2 Pro è possibile regolare i gradi di rotazione del volante quanto forte debba essere il bump stop quindi quando si arriva al termine della sterzata al termine fisico quanto debba essere forte lo stop ci sono altre opzioni e poi qui in fondo andiamo nella parte vera e propria dei filtri a partire dal force reconstruction filter che è proprio il filtro per cui Simo Cube è rinomata e fondamentalmente questo qui è un filtro che serve a rendere più fluida la risposta del volante valori più bassi restituiscono un force feedback più grezzo valori più alti vanno a eliminare del dettaglio ma restituiscono una risposta più fluida un altro filtro che lavora in tandem con il reconstruction filter è questo limiter che sostanzialmente va a tagliare alcune frequenze troppo alte che su alcuni giochi potrebbero restituire del rumore e adesso rumore è un termine un po' particolare però lo si può immaginare come un disturbo del segnale su alcune frequenze andando a selezionare valori all'interno di questa tendina si vanno a eliminare quelle frequenze lì giochi moderni tendenzialmente non ne hanno bisogno ma comunque adesso lasciatelo pure su unlimited e va bene così andando più in basso abbiamo dumping friction e inerzia che conosciamo benissimo quindi sono tutti quei filtri che servono a rallentare la risposta del volante e a regolarne quindi il peso, la resistenza, l'ammortizzazione tutto questo genere di cose qui passiamo poi allo static force reduction che fondamentalmente ha lo scopo di ridurre le forze costanti in curva senza andare a togliere invece forza a quelle che sono le forze senza andare a togliere l'intensità a quelle che sono le forze momentanee come salire su un cordolo, prendere un dosso e quant'altro serve quindi magari a ridurre un po' l'intensità generale della resistenza applicata al volante mantenendo comunque dettagli di cordoli, strada e quant'altro slew rate va invece a regolare quanto velocemente può accelerare il force feedback per così dire, una definizione che magari qualcuno vorrà linciarmi per averla detta così però fondamentalmente più questo valore è alto più si lascia il volante libero di accelerare al massimo delle sue potenzialità e tendenzialmente può essere anche un po' pericoloso se lo lasciate completamente off quindi noi comunque consigliamo di mantenere un valore abbastanza basso perché vi consente comunque di recuperare la macchina nei sovrasterzi e quant'altro ma tende a essere più sicuro nei momenti in cui il volante per qualsiasi motivo possa sfuggirvi o magari succede qualcosa di inaspettato, qualcuno vi c'entra da dietro, non ve ne rendete conto in questo modo si va a attenuare quelle che possono essere le conseguenze di un impatto del genere questa parte più in basso è una cosa che in realtà è un po' una regolazione tanto di fino ma che a conti fatti non conviene andare a modificare perché parlavamo prima di ridurre alcune frequenze questo serve a fare più o meno la stessa cosa ma su uno specifico range intermedio di frequenze e ha più svantaggi che vantaggi a conti fatti nel senso che si vanno sì magari a togliere alcuni elementi di disturbo ma ne risentono anche frequenze utili quindi risposta della gomma, risposta dell'auto, in generale comportamenti cioè andando a togliere determinate frequenze si andrebbero a togliere anche elementi di dettaglio importanti che invece ci servono quindi diciamo che da picking and notch filter in poi tendiamo a lasciare tutto esattamente come è di default questo per quanto riguarda i filtri dimenticavo prima di dirvi che per accedere alla parte del paddock online chiaramente è necessario registrarsi noi qui l'abbiamo già fatto basta creare un profilo si può fare l'accesso anche con Google quindi molto molto semplice ok abbiamo dato uno sguardo al paddock, ai profili e a come funzionano quindi passiamo molto velocemente alla schermata delle impostazioni qui abbiamo la possibilità di selezionare l'attivazione o meno di notifiche audio per sentire alcune cose come per esempio se stiamo clippando col force feedback o per sapere se il nostro volante ha attivato o disattivato la potenza massima ci sono altri valori di sicurezza qui questo è un effetto molla che consigliamo di tenere disattivato questo è il lens of detection quindi il volante si rende conto se non ci sono le mani sullo sterzo e entra questa modalità di sicurezza uno switch interessante è questo resonance of reduction che va a diminuire leggermente quello che è il suono della risonanza delle frequenze all'interno della base e tutte le modifiche fatte vanno poi salvate tramite questo pulsante che adesso non è cliccabile perché non abbiamo fatto modifiche qui sotto ci sono invece le classiche impostazioni di far partire il programma con windows e tutte queste cose qua quindi evitare di andare troppo nel dettaglio ultima schermata info anche qui semplicemente ci sono un po' di informazioni per quello che riguarda proprio i dati effettivi della base ultima cosa che vi faccio vedere è questo pulsante qui in basso a voi il software arriverà esattamente come ve l'ho mostrato finora però per sfruttare tutta la potenza del motore è importante cliccare qui scendere qui in basso e consigliamo di attivare questa spunta che farà sì che il volante poi si attiverà scusate la base si attiverà poi sempre con la massima potenza cioè da aspettare il countdown si fa click activate high torque quindi date semplicemente il fatto di aver letto in quant'altro date ok farà questo suono e da qui in avanti non dovete più preoccuparvi di fare questa cosa questa era un po' una panoramica generale del software TrueDrive di SimuCube se qualcosa non vi è chiaro se avete dubbi, domande lasciateci pure un commento saremmo contenti di rispondervi ricordatevi di lasciare un like se il video vi è stato utile l'appuntamento è il prossimo video con il gameplay ci vediamo alla prossima ciao